Toglie i ferri, così come aveva fatto alla penultima uscita. Cavalli chiamati agli ordini dello starter. Dallo steccato, Condorors con Mario Minopoli Jr., Da Eusse K, Enrico Somma, Bon Turan, Gaetano Di Nardo, Cash Fass, Giorgio D'Alessandro Senior, Virtuale, Antonio Di Nardo, Ari Lest, Vincenzo D'Alessandro Jr., Chiude, Dream Road d'Alvio, all'argo dello schieramento con Luigi Panico. Con prudenza Ari Lest, anche Cash Fass e Deusse K arretrati. Deve girare il frustino Antonio Di Nardo in salchia virtuale per sopravanzare Condorors che tiene i piedi di dentro. Poi rientra l'avversario che a questo punto si ritrae in seconda posizione, ne scaturisce un quarto d'apertura piuttosto sostenuto che Condorors completa in 28 e mezzo. Condorors all'avanguardia, virtuale lo segue, poi Bon Turan, all'avanzata di Cash Fass. Si sposta virtuale, ma non anticipa Cash Fass, il quale va dritto su Condorors. 600 in 43 e 9. Condorors pressato da Cash Fass. Bon Turan si ritrova in seconda posizione alla corda virtuale in seconda pariglia esterna. metà percorso in 59 e 2. Condorors, Cash Fass, Bon Turan virtuale, Dream Road d'Alvio. Chilometro completato in 1'13 e mezzo. 14 e 3 l'ultima frazione. Cash Fass appariglia completamente. Condorors che si difende. i due arrivano ai tre quarti di miglio in 1'27 e 3'13 e 7 l'ultimo paletto. Virtuale richiesto da Antonio Di Nardo. Ingresso in retta d'arrivo. Cash Fass supera Condorors. Non interviene ancora virtuale. Cash Fass allunga. Di dentro va Bon Turan. Cash Fass in vantaggio su Bon Turan e virtuale. Cash Fass, Bon Turan virtuale. 4-3-5 l'arrivo probabile ed ufficioso. Delude il favorito virtuale. Vanno forti gli altri. Io ho 1'57 per Cash Fass che ha macinato all'esterno Condorors ed è passato in retta d'arrivo. Un cavallo ritrovato. Questo lavoro certosino di Giorgio D'Alessandro Senior che lo interpretava personalmente nella circostanza. Il figlio di Espluacaf e Rapsodia del Nord realizza una media che dovrebbe avvicinarsi all'1,13 e 2. I colori dell'avvocato Francesco Gragnaniello. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.